Dialogo sull'Albania è un libro che ho curato per edizioni Alphabeta Farlag di Merano con prefazione di Goffredo Fofi. Raccoglie gli scritti di Alexander Langer e Alessandro Leogrande sull'Albania ed è il dialogo tra due importantissimi e lucidissimi intellettuali che tuttavia non si erano mai incontrate. Alexander Langer è nato a Sterzing Vipiteno nel 1946 è morto suicida nel 1995 mentre Alessandro Leogrande era nato a Taranto nel 1977 ed è morto ad appena 40 anni il 26 novembre del 2017. Molte cose li accomunavano e Alessandro Leogrande aveva trovato in Langer una sorta di maestro, una sorta di punto di riferimento per molti temi che li accomunavano. La società multietnica, l'interesse per i poveri ed i diseredati della terra, la convivenza interetnica, i temi ambientali ma anche appunto come dice il titolo del libro stesso il dialogo e l'ascolto verso l'altro. Per Alexander Langer l'altro è fondamentale tutta la sua vita sin da ragazzo crescendo nel Sottirolo lacerato dai conflitti etnici tra italiani e tedeschi l'altro è qualcuno da incontrare e ascoltare e stessa cosa per Alessandro Leogrande che dedica diversi libri della sua attività di giornalista, reporter e scrittore a capire e conoscere diciamo le ragioni che spingono le persone a spostarsi dai paesi poveri del mondo. comincia con i polacchi che vanno a lavorare come veri e propri schiavi nella piana di Foggia e poi col suo ultimo libro La Frontiera racconta l'emigrazione dall'Africa, dal Medio Oriente e le tragedie che ci stanno dietro non solo l'attraversamento del deserto, non solo il violento feroce sfruttamento da parte di dei trafficanti ma anche le morti terribili nel mar Mediterraneo. Alexander Langer che è stato un importante esponente del movimento non violento pacifista ed ecologista italiano ed europeo era stato potremmo dire il fondatore dei Verdi in Italia e quando fu eletto europarlamentare divenne presidente del gruppo verde e dei Verdi appunto a Bruxelles e come presidente della commissione per il dialogo tra l'Unione Europea, l'Albania, la Bulgaria e la Romania si trovò in Albania nel 1990 nel mese di dicembre quando gli studenti occuparono l'università di Tirana si ribellarono per chiedere la fine del comunismo, trovandosi in Albania in veste istituzionale però non trascurò come era il suo solito di ascoltare cosa stava succedendo al di fuori dei canali del protocollo quindi andò a incontrare gli studenti che manifestavano, si incontravano e raccontò in diretta dalle colonne del quotidiano.